Adler Color Emotion Effetto Metallizzato Un prodotto ricco di varianti che permette la creazione di design completamente nuovi per le vostre stanze Dal fascino dei metalli preziosi, l'oro e l'argento, a un look più vintage con l'effetto ruggine Con i nuovi Adler Color Emotion, tutto è possibile Adler Effetto Argento Un tocco di lusso per le vostre pareti Applicare con un rullo Effect Base Soft Tonalità Silver Grau Incrociando le pennellate in tutte le direzioni Sempre con il rullo, applicare due mani di Effect Metallic Argento Superfici metallizzate in modo elegante si ottengono grazie all'applicazione a spatola Applicare a rullo l'effetto metallico su una superficie dipinta conforme il 2000 in uno strato fine E quindi lisciatelo aiutandovi con una spatola giapponese Se invece avete voglia di dare un tocco vintage ai vostri ambienti, il raffinato effetto ruggine è fatto apposta per voi Applicare con un rullo Effect Base Mica in tonalità grigio-antracite con pennellate incrociate Applicare quindi con una spugna naturale il prodotto Effect Lasur Tonalità Piemontese Infine, sempre con l'ausilio di una spugna naturale, applicare il prodotto Effect Lasur Tonalità Perugina Non applicate i prodotti sull'intera superficie, ma cercate di creare delle macchie di colore in modo da rendere il tutto più naturale Per migliorare l'effetto è consigliabile carteggiare la superficie con una spugna abrasiva di grana 220 Non importa se l'effetto desiderato è una bella pietra resistente piuttosto che un metallo glamour Con i nuovi Adler Color & Motion non c'è limite alla creatività Tutti i prodotti sono disponibili presso il vostro rivenditore Adler di zona